Una splendida saliera composta da due figure, Nettuno e Cerere, a rappresentare l'acqua e la terra. Le gambe intrecciate simboleggiano la combinazione di due elementi che insieme producono il sale. Cellini, celebre orafo, scultore e incisore, lavorò per imperatori, re, papi e principi. Questa saliera in particolare fu realizzata per Francesco I di Francia. Lo splendore e la grazia dei lavori del Cellini sono un esempio perfetto di scuola manierista. Il fine artistico dei manieristi era quello di suscitare emozioni attraverso gli effetti estetici, utilizzando figure naturalmente snelle, allungate e forti cromatismi, come si osserva negli artisti del tardo XVI secolo. Grazie alla famosa autobiografia del Cellini conosciamo diversi episodi della sua vita tumultuosa, quali il suo arresto per il furto dei gioielli della corona papale. Sfortunatamente molti piccoli lavori del Cellini, medaglie, coppe e pugnali, sono andati perduti, mentre quasi tutti i lavori di maggiore dimensione sono giusti.